il dito lontano dal grilletto ma la pistola stretta in mano l'odore di cordite ancora nel naso il boato dello sparo sempre nella mente ripose l'arma nella tasca dell'ampio vestito da casa di sua suocera e il non averla più tra le mani pure se vicina la rese nervosa lo ha comprato una babbana se l'è portato a casa e ha cercato di servirci il tè degli amici è stato un incubo papà ha dovuto fare straordinari per settimane intere che cosa è successo la teiera era impazzita e schizzava tè bollente dappertutto e un signore è finito in ospedale con le pinze per lo zucchero appese al naso papà ha lavorato come un pazzo in ufficio ci sono soltanto lui un vecchio stregone di nome perkins e hanno dovuto fare incantesimi di memoria e ogni sorta di artifici permettere a tacere la cosa ma vostro padre questa macchina fred scoppiò a ridere si papà va matto per tutto quello che riguarda i babbani abbiamo il capanno pieno zeppo di aggeggi che provengono dal loro mondo lui li smonta ci introduce qualche incantesimo dentro e poi li rimonta allungato su un fungo accanto a lei un bruco fumava pacioso la sua pipa buongiorno bruco disse alice che sei tu disse il bruco con una lentezza disarmante mi chiamo alice e tu come ti chiami bru califo rispose quello scandendo ogni singola lettera del suo nome le donne non furono certo più garbate e una che viene dal nulla e anche ammazzato suo marito eppure guardatelo un po se illusa di essere una sorta di poliziotto non è un tesoro almeno potrebbe tirarsi sui capelli sempre una zoccola con tutta quella chioma rossa sugli occhi io me li tingerei di un colore più naturale fossi lei questa non è un'aquila però osservò bea no a meno che non abbia ingoiato un rospo rispose tiziano chiare lucio risero è un corvo zia un corvo imperiale aggiunse l'uomo fissando il cielo è il più grande e robusto dei corvidi ed è il peggior nemico delle aquile davvero sì non sai quanti combattimenti aerei li ho visti fare naturalmente vincono le aquile intervenne chiara a dire il vero il più delle volte è l'aquila che batte ritirata i corvi imperiali sono tipi tosti e spesso predano le uova o gli aquilotti ancora nel nido spiegò tiziano che di colpo si fermò usciti dal bosco il canto degli alberi si assopì a quel punto anche la guida o di qualcosa hai ragione sono aquile disse scrutando il cielo a occhio nudo sono lontane però non riesco a vederle le sento anch'io adesso intervenne chiara il verso viene da là aggiunse indicando una montagna ovest sì da quel versante laggiù confermò tiziano scandagliando le pendici delle montagne con il binocolo le grida si ripeterono ancora più serrate lucio ruotò lentamente la testa da una parte all'altra poi puntò il dito su un punto preciso eccole gli altri lo guardarono sorpresi febe lo guardava attentamente lui invece non staccava gli occhi dalla faccia della suora tutti e due sentivano il rumore del suo respiro e quale potrebbe essere questo nesso non lo so è una delle cose su cui vorrei scambiare due parole con lisa in effetti avvicinò la sedia di qualche centimetro alla scrivania in effetti sorella la mia proposta è che lisa raccolga le sue cose venga via con noi con me e febe oggi adesso è fuori questione disse la suora liquidandolo con una risatina suo padre ha espressamente sì non ho dubbi che suo padre abbia insistito che non debba vedere nessuno parlare con nessuno e certamente non lasciare la lavanderia senza il suo permesso esatto ma io suor dominic sono qui per come dire sono qui per dare un contrordine sono venuta a prendere lisa e a portarla via in un luogo sicuro sicuro ripete la suora con voce più grave sta insinuando che qui correrebbe qualche pericolo io credo disse quark lentamente che sia in pericolo in linea generale non posso dire con esattezza che genere di pericolo ma lasci che glielo spieghi in un altro modo conosco suo padre so che genere d'uomo è lui è un pericolo e non ci si può fidare di lui per la sicurezza di sua figlia o ne scese l'ispettore dei carabinieri amico di tiziano buongiorno signori esclamò calmo risoluto la vostra scampagnata finisce qui documenti prego non capisco agente disse gracco che abbiamo fatto ispettore lo corresse l'ufficiale e grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti